Ischia torna l'allerta via dalla zona rossa da mezzanotte allerta arancione per la protezione civile regionale c'è il rischio di nuove frane firmato una nuova ordinanza di evacuazione per i residenti della zona rossa intanto dolore per i funerali della vittima più piccola della tragedia svolta ambientalista si a eolico e fotovoltaico fa il liga ambiente vvf firmano l'accordo sulle rinnovabili basta con l'associazionismo del no la transizione energetica non si può fermare il presidente anev togni siamo sulla strada giusta ora il governo acceleri patto de luca calderoli serve intesa con regioni soddisfatto il governatore dopo l'incontro con il ministro sul disegno di legge sull'autonomia differenziata accolte le nostre richieste ha spiegato de luca l'esponente del governo il sud non sarà penalizzato avellino concorso flop regolarità e proteste la prova era stata fissata nel centro fieristico di areano irpino totale disorganizzazione del comune capoluogo che ha fatto una figuraccia candidati allo sbando chiesto l'intervento della polizia prove annullate in parte irpini asagno col diretti bruno deve dimettersi restituire dignità istituzioni imprese interviene il direttore dell'associazione campana lo fredda sul caos al vertice della camera di commercio irpini asagno il presidente bruno prende atto che è finita e molli fortino lucida artista da record nuovo piano per i residenti il successo della kermess fa scattare le polemiche dei residenti del centro di salerno per caos traffico e parcheggi il comune corre a ripari potranno sostare su tutte le strisce blu della città e il sindaco si compiace per il boom dell'evento buonasera e ben ritrovati con il tg news da mezzanotte scatta l'allerta arancione per la protezione civile regionale c'è il rischio di nuove frane a dischia firmata una nuova ordinanza di evacuazione per i residenti della zona rossa ad ischia torna la paura con l'allerta arancione che per 24 ore è stata proclamata su tutta l'isola al termine di un vertice convocato d'urgenza la struttura commissariale ha firmato una nuova ordinanza di evacuazione per le famiglie che ricadono nella zona rossa l'ordinanza che ho appena firmato è un'ordinanza confermativa della precedente ordinanza di allontanamento dagli edifici di compresi nella zona rossa quindi a tutti gli effetti l'ordinanza precedente è tuttora in vigore le persone infatti sono ospitate ancora nelle strutture alberghiere e anche oggi abbiamo ricevuto delle nuove richieste di sistemazione in albergo da parte di cittadini che in prima battuta non avevano aderito a questo invito almeno una ventina i nuclei familiari che però sono rientrati a casa nonostante l'ordinanza di sgombero per la protezione civile non si può escludere il rischio di nuove frane dai versanti del monte pomeo in un territorio già fortemente compromesso l'invito della protezione civile regionale a tutti i cittadini è di allontanarsi da tutte le abitazioni che dalle analisi di quick triage fatta con i vigili del fuoco sono state classificate rosse intanto dolore e commozione nella chiesa dell'annunziata di campagnano per i funerali di maurizio scotto di minico giovanna mazzella e giovan giuseppe il piccolo di appena 22 giorni ucciso dal fango lacrime all'uscita della bara bianca mentre un volo di palloncini bianchi ha salutato l'ultimo viaggio della famiglia un giovane extra comunitario di 20 anni è morto a napoli al culmine di una lite tra migranti scoppiata in piazza duca degli abruzzi secondo quanto si è appreso l'aggressione ha visto protagonisti due marocchini uno dei quali è stato colpito con diversi fendenti al petto ed è deceduto sull'accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura che avrebbero identificato l'aggressore prioritario non fermare la transizione energetica le associazioni green dicono no agli estremisti del paesaggio rilanciano gli investimenti su olico e fotovoltaico ad otto channel il presidente di anev togni spiega siamo sulla strada giusta ma il governo deve accelerare anche per legambiente è il momento di agire vediamo le emergenze climatiche ed energetiche sono tra le sfide più importanti da affrontare con urgenza non c'è più tempo dunque per scendere a compromessi fai legambiente wf rompono con gli estremisti della tutela del paesaggio contrari a pale eoliche e fotovoltaico e firmano un accordo sulle rinnovabili come spiega il presidente di anev simone togni la transizione energetica non si può fermare per tanti motivi lo diciamo da tempo c'è un aspetto climatico c'è un aspetto ambientale e c'è un aspetto economico la crisi geopolitica di questi mesi ci ha fatto capire una volta di più e in maniera decisiva come l'unica strada siano le rinnovabili e fortunatamente le rinnovabili le olico in primis sono le tecnologie che consentono di risolvere tutti questi problemi sono la risposta a questi problemi per legambiente il momento di agire o sarà troppo tardi abbiamo degli obiettivi importanti di decarbonizzazione al 2030 al 2050 e una transizione ecologica passa necessariamente per una transizione energetica se non portiamo nuovi gigawatt di potenza rinnovabile quel paesaggio che tanto abbiamo paura di compromettere nei prossimi decenni non esisterà più gli strumenti che abbiamo a disposizione sono tanti non solo i grandi impianti classici impianti da fonti rinnovabili che ormai ben conosciamo ma anche le comunità energetiche l'eolico offshore e il moderno agrivoltaico a napoli nella notte sono spariti più di 20 alberelli nella strada dello shopping a chiaia i negozianti si dicono amareggiati e denunciano quanto accaduto è indecoroso li avevano installati sui marciapiedi davanti ai punti vendita soltanto due sere fa 20 alberi di natale dovevano essere ancora decorati ma i commercianti di via calabritto non hanno fatto in tempo perché qualcuno nella notte ha pensato di rubarli il progetto messo in piedi dagli stessi esercenti di chiaia per rendere la strada dello shopping più accogliente per le festività prevedeva l'installazione di tanti alberelli illuminati sui marciapiedi quanti sono i negozi ma nel giro di qualche ora sono spariti sradicati dai vasi lasciati vuoti in strada e portati chissà dove dopo anni di reiterate denunce contro i vandali che prendono di mira solitamente l'albero in galleria umberto stavolta qualcuno ha pensato di andare a devastare via chiaia per i commercianti un brutto risveglio e tanta amarezza episodi simili non dovrebbero più accadere in una città civile alle cinque avevano finito già di montare gli alberi e alle sei sono stati rubati i primi due poi nottata che ci siamo svegliati il giorno dopo quindi il giorno otto ieri sono stati rubati dieci e oggi il restante degli alberi per sentito dire da qualche telecamera non sono gente abbastanza grande che ha rubato gli alberi per sentito dire è una cosa grave e brutta che succede solo in questa città appunto noi chiediamo sorveglianza un po' più in generale è vero che sarà stata una cosa di una ragazzata di ragazzi però non è bello che assistiamo a queste cose dobbiamo migliorare perché è una città che potrebbe dare tanto a questi giovani di turismo potrebbero vivere non di fare di queste cose ma già lavorare per il turismo perché è una città bellissima e unica al mondo il porto di salerno è stato indicato come approdo per i 248 migranti tra cui donne e bambini salvati in mare in tre diverse operazioni festeggiamenti a bordo dell'imbarcazione non appena si è diffusa la notizia la decisione è arrivata in seguito a due richieste di un porto sicuro inviate alle autorità italiane ad annunciarlo su twitter è medici senza frontiere long chiarisce e a più di 24 ore dalla posizione attuale della nave con cattive condizioni del mare autonomia differenziata in regione patto de luca calderoli il ministro assicura riforma epocale il sud non sarà penalizzato patto de luca calderoli sull'autonomia a palazzo santa lucia il vertice tra il ministro per le riforme e il presidente della campania sul tavolo l'autonomia differenziata l'esponente del governo guidato da giorgia meloni assicura che non c'è alcuna intenzione di penalizzare il mezzogiorno io credo che debba essere possibile ci credo e vorrei che tutti ci credessero le potenzialità devono essere messe nelle disponibilità di tutto e più capaci e più bravi ad amministrare e a decidere devono essere messe in condizioni di poterlo fare io ci credo soddisfatto il presidente de luca per il quale il governo ha accolto l'impostazione della regione campania c'è stata una svolta radicale nel senso che anche il ministro ha accettato in buona sostanza l'impostazione di fondo della regione campania cioè prima di parlare di autonomia definiamo i livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini italiani dal piemonte alla sicilia definiti i livelli essenziali delle prestazioni possiamo definire tutto il resto in attesa della riforma de luca ha intanto sollecitato calderoli ad accelerare sulla sburocratizzazione intanto in attesa della definizione dei lepp ho detto a calderoli ti propongo sette punti di sburocratizzazione che nel frattempo possiamo realizzare a costituzione invariata pareri ambientali, portualità, opere pubbliche di interesse regionale ZES, tutto quello che diventa a volte un calvario Indagini in corso da parte della polizia sul concorsone indetto dal comune di Avellino la prova nella struttura del centro fieristico di Ariano Urpino Ma abbiamo delle intenzioni, gente che sta qua dalle sette non c'è un c***o di pullman che ti porta fino a qua se non è la macchina sei fregato Una prima prova sospesa per presunte irregolarità che ha rischiato di trasformarsi in risa a tal punto da richiedere l'intervento della polizia E' quanto accaduto stamani ad Ariano Urpino al centro fieristico di località Casone durante il concorsone indetto dal comune di Avellino in migliaia, ammassati come sardine in barba ad ogni misura di sicurezza con seri problemi di viabilità e ordine pubblico Non si è capito nulla ancora stiamo attendendo dalle 10 noi di entrare ma ancora non si è entrato E' allucinante questa situazione abbiamo una amica dentro imprigionata praticamente Complimenti per l'organizzazione Dopo i 20 euro di tassa un complimenti veramente Stanno tutti in agitazione sembrerebbe che abbiano riscontrato delle irregolarità Non capisco che cosa aspetta ad annullare perché non ha senso Non ha senso Mai saputo una cosa del genere che un bando si fa in questo modo Ne ho fatti in vita mia tantissimi di concorso ma come questo mi mancava Sulla questione è intervenuto il movimento insieme per Avellino e l'Irpinia che ha presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri, prefettura e procura della Repubblica di Avellino Ha parlato di flop e di un incredibile fallimento del concorso sollecitando la ricerca delle responsabilità Il vice commissario provinciale di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole Anche la Coldiretti Campania interviene sulla vicenda della Camera di Commercio Erpini a Sagno a commentare in maniera dura quanto sta accadendo in seno a lente camerale il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda La soglia della dignità è stata oltrepassata e solo le dimissioni di Bruno potranno rimettere la neonata Camera di Commercio Erpini a Sagno sui binari della credibilità istituzionale Ha dichiarato Loffreda che ha anche usato la leva dell'ironia per commentare la situazione Non siamo in un western che deve difendere il Fortino Molli Fortino per rispetto dei sacrifici delle imprese prende atto di aver fallito e si dimetta Lucida Artista fa scattare le polemiche dei residenti del centro di Salerno per il caos, traffico e parcheggi il comune corre ai ripari potranno sostare su tutte le strisce blu della città Lucida Artista dopo le proteste dei residenti il comune di Salerno corre ai ripari nel pomeriggio la giunta ha dato l'ok al provvedimento che modifica le autorizzazioni per la sosta dei cittadini che complice l'assalto di migliaia di visitatori specialmente nei fine settimana e nei giorni di festa hanno difficoltà a parcheggiare e si sentono prigionieri in casa fino alla fine dell'evento i residenti potranno sostare in tutte le strisce blu della città senza rischio di prendere una multa un provvedimento che va nella direzione di placare la rabbia dei salernitani anche se il sindaco ribadisce che il successo dell'evento dimostra che la strada intrapresa è quella giusta Lucida Artista è ancora un evento che richiama masse importanti di visitatori di turisti di curiosi e la città viene pacificamente invasa da tante persone che poi significa portare ricchezze economia sviluppo e marketing territoriale intanto si moltiplicano gli appuntamenti collaterali alle Lucida Artista all'interno della sala San Lazzaro di Via Duomo è stata scoperta una targa nel centenario della nascita del maestro Mario Carotenuto autore del suggestivo presepe dipinto 40 anni del presepe di Carotenuto ma 100 anni del maestro Carotenuto noi oggi festeggiamo due realtà non solo non sono intervenuti mentre mi picchiavano mi hanno anche apostrofato più volte come un infame il racconto shock del detenuto di origini pugliese picchiato nel carcere di Bellizzi Irpino il 9 marzo del 2022 da altri detenuti rinchiusi in un'altra sezione tra gli indagati tre agenti penitenziari i detenuti accusati del passaggio sono di pago del Vallo di Lauro e di Napoli il passaggio avvenuto stando alla ricostruzione effettuata dalla vittima grazie alla complicità degli agenti che avrebbero aperto la porta della cella sono stato aggredito ha spiegato il detenuto perché avevo incontrato spesso il comandante dunque hanno iniziato a sospettare di me dalla Piantica la rotta di Enea passando per la candidatura al patrimonio UNESCO del culto di San Gennaro il sindaco di Benevento Clemente Mastella rilancia i progetti per il turismo in città ma chiama i privati manca purtroppo l'offerta alberghiera così diventa tutto più complicato sentiamo Benevento pronto a conquistare nuovi riconoscimenti dall'UNESCO dopo il complesso di Santa Sofia si lavora alla Piantica ma anche al culto di San Gennaro che diversi studi sostengono fosse nato nella città sannita non solo oggi in città ha presentato anche il percorso la rotta di Enea che vede Benevento tra le tappe del viaggio dell'eroe virgiliano l'altra settimana sono stato a Napoli per San Gennaro che toccherebbe anche la città di Benevento assieme a Pozzuoli a Napoli vediamo inoltriamo questo tipo di prospettiva e di itinerario che si allunga fino al riconoscimento dell'UNESCO con una visione un po' diversa questa per quanto è la rotta di Enea e in questa rotta ci siamo anche noi ma il sindaco individua la pecca nella scarsa iniziativa privata è ovvio che quello che manca da noi purtroppo non dipende dal comune certamente e oggettivamente è purtroppo la presenza alberghiera se non c'è iniziativa privata diventa complicato poniamo le basi per sviluppare una tappa importante di questo percorso ha spiegato il presidente della rotta di Enea Benevento infatti sede di un incontro speciale quello tra Enea e Diomede e che nemici a Troia qui si riconciliano sono 21 tappe principali che vanno da Troia alle coste del Lazio Procopio di Cesarea ci racconta anche però di un incontro di cui Virgilio non parla nell'Eneide tra Enea e Diomede Enea risale le coste verso l'interno per incontrare Diomede da cui riceve la restituzione del palladio che era stato sottratto a Troia e Diomede è malato e un dovino gli aveva predetto che con la restituzione del palladio sarebbe guarito Artigianato ed enogastronomia di qualità ma anche cultura nello splendido scenario della reggia di Portici sono tornati anche quest'anno i mercatini di Natale evento capace di richiamare tantissimi visitatori La reggia di Portici apre le sue porte ai mercatini di Natale l'evento giunto alla sesta edizione si conferma punto di riferimento delle manifestazioni di questo periodo dell'anno in Campania nella suggestiva cornice del galoppatoio 30 espositori animano la mostra dove i visitatori possono perdersi tra artigianato specialità enogastronomiche e prodotti di qualità unica come la birra artigianale Maganuce sicuramente la particolare della nostra birra è lo zafferano che è il protagonista di questo prodotto in quanto tra l'altro è una produzione che noi abbiamo fatto incontrare lo zafferano Umbro con quello beneventano infatti la nostra birra la quale vedete anche il nome si ispira appunto alla tradizione anche sannitica delle streghe riprendendola nel nome Maganuce ed è una birra rifermentata in bottiglia nella quale è appunto possibile addirittura vedere gli stimili zafferano proprio sedimentati in bottiglia in quanto appunto è rifermentata spazio anche alla cultura parterre d'eccezione per la presentazione del libro di Arturo Minervini Napoli vista Marek il volume che ripercorre l'avventura di Amsic in maglia azzurra è un viaggio nei ricordi ma con i piedi ben saldi nel presente calcistico azzurro se il Napoli di oggi è così forte è perché c'è stato Marek perché c'è stato i Cavani i Lavezzi che hanno portato poi questo club ad un livello sempre più alto sia sul piano tecnico ma anche sul piano umano perché poi le vittorie partono sempre da una struttura solida sul piano etico per il sindaco Enzo Cuomo Portici si conferma città poliedrica capace di bariegare la propria offerta turistica natalizia è una città a 360 gradi che si sta muovendo diciamo in una direzione culturale, commerciale artistica letteraria si accendono gli alberi della prevenzione all'ospedale Moscati ad Avellino il dottore Iannace adottocian e ribadisce fate prevenzione vediamo Natale solidarietà ad Avellino oggi nella piazza coperta dell'ospedale Moscati per il quinto anno sono stati addobbati gli alberi della prevenzione dell'impegno quattro colori per un messaggio unico blu è l'autismo rosso donne metastatiche rosa per quanto riguarda la prevenzione in genere e non bancava il verde per l'avellino guardate che in effetti noi parliamo di prevenzione quindi di agnosi precoce è solo ed è l'unico modo per potersi salvare la vita trovare tumori di piccole dimensioni problemi che si possono risolvere con semplici interventi e non terapie chemoterapiche importanti che comunque possono devastare non solamente dal punto di vista fisico ma anche psicologico le persone venendo un attimino da lui mi sono trovata mi sono trovata nella ragnatele sono nove anni nove anni signora quante palline ha preparato per questi natali non lo so una marea una marea intanto nel piazzale della caserma Berardi si è illuminato l'albero delle forze armate con un messaggio speciale per tutti i militari impegnati in missioni all'estero l'augurio che faccio ai miei uomini è di continuare a mantenere alta a mantenere alto il nome dell'Italia il nome dell'istituzione che servono ed a servire il paese sempre con con il sorriso perché quello che facciamo noi lo facciamo per costruire un mondo migliore un futuro migliore per i nostri figli e per per le le generazioni successive quindi forza ragazzi noi siamo sempre insieme a voi disagi per i lavori sui Pini non dipendono dall'amministrazione così l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa che interviene dopo le rimostranze dell'opposizione per i disagi in Viale Atlantici ancora polemica sul caso Pini a Benevento dopo i disagi che si sono verificati a causa dei lavori in Viale Atlantici stigmatizzati dai componenti dell'opposizione tuttavia l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa respinge le accuse spiegando che non dipende dall'amministrazione non lo decido né io né l'opposizione quando fare i lavori bensì i tempi li detta il sistema fitosanitario regionale quindi ci ha comunicato che i lavori dovevano essere iniziati agli inizi di dicembre e quindi abbiamo praticamente seguito alla lettera le loro indicazioni per quanto attiene alla roadmap Rosa individua nella prossima primavera il periodo in cui sarà definitivamente chiusa la vicenda adesso finiremo tutte e tre i filari quindi via le atlantici che ormai è in dirittura d'arrivo partiremo con via pace vecchia e poi i fratelli rosselli successivamente ci sarà la piantumazione delle nuove essenze arbore nei punti in cui sono state rimosse e poi ci sarà la sostituzione delle ceppaie delle 12 ceppaie che furono tolte agli albori di questa vicenda si risolverà il problema a primavera palline di natale in vendita per beneficenza ricavato servirà a comprare delle giostrine per bambini presentata a salerno l'iniziativa di solidarietà che vede coinvolti comune rotari e associazioni feste feste nel segno della solidarietà con una staffetta tra generazioni le anziane ospiti del laboratorio di salerno hanno dato vita a 300 palline di natale realizzate all'uncinetto il ricavato della vendita delle creazioni sarà utilizzato per acquistare tre giostre per bambini nel parco del galiziano è un'iniziativa davvero straordinaria la creatività unita alla solidarietà per un intervento che possa dare un servizio alle famiglie alle comunità ai beni comuni delle creazioni artigianali create attraverso gli ospiti di salerno solidale è un'associazione che si caratterizza per la grande creatività appunto della nostra città consentono di realizzare delle giostrine di creare delle giostrine e acquistarle per il parco del galiziano quindi un parco da rilanciare da riqualificare al servizio delle famiglie puntando su quello che ormai è diventato un punto di forza della nostra città la solidarietà fondamentale la collaborazione istituzionale tra comune di Salerno associazione Maniga e Rotary un incontro tra generazioni un grande messaggio di coesione sociale questo grazie proprio all'impegno di tante persone sia del centro di urno che della casalbergo che insieme a noi hanno fatto dei laboratori li abbiamo messi in condizioni proprio di realizzare gli addobbi e le palline del Natale questo sempre perché nella finalità dell'associazione Maniga c'è proprio quella di valorizzare la creatività del fatto a mano Al Via Benevento la tre giorni di formazione dedicata ai volontari è promossa dal CSV Irpini a Sagno primo appuntamento dedicato alla digitalizzazione e alla protezione civile dalla protezione civile alla digitalizzazione al Via Benevento presso il centro La Pace la tre giorni volontariato è formazione iniziativa promossa dal CSV Irpini a Sagno L'obiettivo del centro servizi è quello di qualificare con la formazione proprio specifica i volontari che possono comunque avere delle risorse particolari che poi possono spendere nelle loro associazioni Competenze che si punta così a trasmettere a tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato corretta e anche qualificata perché sia i nostri formatori sono tutti qualificati e tendiamo anche ad avere un riconoscimento formale di qui la tre giorni di percorsi formativi e consulenze che si chiuderà domenica con la celebrazione dell'assemblea elettiva del CSV Irpini a Sagno attenzione pertanto alle nuove normative che riguardano il terzo settore come il registro unico nazionale ma spazio anche alla pratica abbiamo deciso di puntare tutto sulla pratica quindi siamo partiti con una fase importante che è quella della logistica quindi oggi tratteremo montaggio di un campo tutta la manutenzione di un campo ma soprattutto quelle che sono le regole stabilite dalla presenza del Consiglio dei Ministri dal Dipartimento della Protezione Civile è importante perché in una fase di emergenza la prima azione che viene compiuta è la logistica quindi soprattutto l'accoglienza della popolazione e anche l'accoglienza dei volontari il Tg termina qui ora ci sono le previsioni meteo a voi tutti grazie per averci seguito a voi tutti grazie 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 grazie a voi